L'atleta dell'ASD Milone Siracusa, Giusy Parolino, conquista a Pescara nel lancio del Giavellotto la medaglia di bronzo ai campionati europei 2023 e stabilisce con 30 metri e 41 il nuovo record siciliano di specialità. Un 2023 straordinario anche quest'anno per la campionessa italiana di lancio del Giavellotto che ha fatto registrare un successo dietro l'altro, medaglia d'oro ai campionati italiani, lanci lunghi invernali, medaglia d'oro campionati italiani estivi, medaglia d'oro finale nazionale allo scudetto CDS 2023, oltre a vali i record siciliani e tante altre medaglie d'oro regionali. Il podio europeo è un'emozione indescrivibile, dichiara Giusy Parolino, sono gare che vanno preparate con anni di allenamenti e sacrifici e questa medaglia di bronzo dimostra che in questi anni mi sono allenata con grande livello. Da un punto di vista agonistico prosegue la campionessa, chi segue l'atletica leggera a 360 gradi sa bene cosa vuol dire arrivare su un podio accanto alla Finlandia, alla Lettonia, che sono le scuole mondiali del lancio del Giavellotto. Se sono su quel podio conclude esclusivamente perché chi mi allena è un esperto a pari merito dei grandi.